Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Secondo l'oroscopo vi sono dei segni che stanno per essere particolarmente favoriti di qui a poco per quanto riguarda una paio di argomenti che stanno a cuore a moltissimi, ovvero amore di denaro, ma chi saranno i fortunati? Ci saranno dei segni dello zodiaco che potranno essere particolarmente favoriti nel mese che attualmente sta aggiungendo al termine. Si tratta di tre, decisamente inaspettati Fuori i nomi.I gemelli avrà più leggerezza. L'ultima settimana di agosto porta sulla scena un oroscopo scoppiettante, in linea con l'approssimarsi della fine dell'estate, ormai quasi alla porte Per alcuni segni questo potrebbe voler dire la fine di un periodo di magra molto stressante e l'arrivo della leggerezza da tanto, o meglio, troppo tempo agognata e che nel periodo caldo e afoso, oltre che decisamente umido, non è purtroppo arrivata E questo ha anche creato a onor del vero dei pesanti malumori, davvero difficili da gestire in alcuni casi Questo è sicuramente vero per i gemelli, che verranno abbracciati affettuosamente da Venere dopo la calda protezione del sole negli ultimi giorni La fine dell'estate sarà quindi all'insegna dell'amore leggero, che risolleva dai problemi per perindurre alla nascita di qualche avventura amorosa Queste diventeranno ben presto un bel ricordo ma niente di più Il cancro coglierà nuove opportunità.Il cancro, a fine mese avrà dei vistosi miglioramenti Via le incomprensioni e gli ostacoli che hanno fatto Capolino ultimamente sia in amore che sul lavoro Stoppa ai malumori e si ha la scelta di abbracciare finalmente le nuove opportunità che di certo non mancheranno sia per quanto concerne la vita private che lavorativa che per lui talora vanno a braccetto Questo nuovo e accattivante approccio sarà accompagnato dal sole, nonostante l'interferenza reale di Marte Infatti, il cancro riuscirà a mantenere la calma anche nelle situazioni più pesanti e stressanti, rispondendo con un belle luminoso sorriso e la sua consueta e decisamente ragguardevole etica sul lavoro che gli consente di ottenere quasi sempre belle e interessanti gratificazioni Promozioni in arrivo.Il toro avrà più energia.Ma quale sarà il terzo segno fortunato delle ultime settimane del mese in corso? Il toro.Il sole in cancro infatti gli donerà in mente non si dica una nuova spinta che gli porterà nuova energia, oltre che ingente tranquillità, anche perché avrà l'occasione, davvero ghiotta, di staccare seppur brevemente la spina e di potersi così maggiormente concentrare su se stesso e sul proprio partner che da tanto tempo chiede maggiore attenzione Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti